Abruzzesi di Lega Pro scatenate nelle ultime ore, l'Aquila del direttore tecnico Ercole Di Nicola ha infatti ufficializzato tre importanti colpi di mercato. Alla corte dei Rosso Blu sono arrivati dal Parma l'attaccante classe 90 Salvatore San Domenico, il regista 31enne ex Salernitana Manuel Mancini e il centrocampista 20enne Alberto De Francesco ex Ischia. Un altro colpo potrebbe essere portato a termine nelle prossime ore, si tratta di quello riguardante Riccardo Perpetuini, anche lui ex Salernitana ma di proprietà della Lazio. Ma la società aquilana non si ferma, Di Nicola infatti vicino all'ingaggio sempre dal Parma, del difensore Giordano Maccarone, dell'attaccante ventenne Leandro Campagna e del difensore Munioz. La sinergia con gli emiliani potrebbe produrre davvero frutti inaspettati considerando i tantissimi giovani di proprietà della società di Ghirardi sparsi per l'Italia. Sul tacquino dei dirigenti aquilani ci sono anche i due giocatori del Palermo, Mauro Bollino e Stefano Cerniglia. Sul fronte uscite stanno per lasciare l'Aquila quattro calciatori, Daniele Gizzi è infatti vicino al Monza, Roberto Di Maio, al Rimini in partenza anche Ligorio verso Ischia e il portiere Andrea Testa in direzione di Messina. Molto attivo anche il Teramo dopo aver acquistato Donna Rumma e Perrotta dal Pescara e il centrocampista Amadio, la società bianco-rossa e vicinissima al difensore ventenne capitano della Primavera del Catania, Simone Brugaletta. Per il ruolo di portiere oltre all'esperto marino piace anche Alessandro Berardi, classe 91, Scuola Lazio.